Il posto migliore dove far rivivere il mito di Cassiopea. La valle dei templi di Pestum è stata lo scenario per la rappresentazione teatrale della storia della bella e vanitosa regina della mitologia greca che a causa della sua superbia e invidia fu trasformata dopo la morte in una costellazione posta vicino alla stella polare e condannata a girare per sempre intorno al polo celeste. Lo spettacolo Le stelle del mito, come nacque la costellazione di Cassiopea che si è svolta sotto il cielo stellato di Pestum nella notte di San Lorenzo è solo uno dei tanti appuntamenti previsti nell'ambito di notti d'estate a Pestum iniziativa regionale promossa dalla Soprintendenza per i beni archeologici e il comune di Capaccio Pestum in collaborazione con la Fondazione Gian Battista Vico e l'Accademia Magna Grecia. I giovani attori dell'Accademia hanno guidato gli spettatori nell'universo mitologico senza un palcoscenico su cui muoversi e senza l'ausilio di scenografie fisse. Il Tempio di Nettuno con le sue rovine circostanti ha fatto da teatro, cornice e palcoscenico al dramma. Il prossimo appuntamento con l'Antica Grecia sabato 18 agosto con la festa greca dei Poseidoniati.